Tanto tempo fa, in un'altra vita, qualcuno mi ha detto che la famiglia è il tallone d'Achille di un uomo, la più grande debolezza. Aveva ragione, perché tutto ciò che ho fatto, nel bene e nel male, l'ho fatto per la mia famiglia. Ho voltato le spalle a persone che mi credevano un amico. Ho mantenuto promesse difficili. Ho passato otto anni in solitudine, alla ricerca di me stesso, per poter tornare a casa come un marito migliore, un padre migliore, un uomo migliore. Ora che sono molto più vecchio e solo poco più saggio, capisco che la famiglia è la più grande debolezza, ma è anche la nostra più grande forza. Ci fa alzare dal letto la mattina. Ci aiuta a inseguire i nostri sogni, anche quando sembrano irratiugibili. e ci aiuta a non crollare a terra, quando siamo troppo stanchi per fare un altro passo. Signor Angelo! Sì. Il signor Salieri le manda i suoi saluti. Va tutto bene. Ora sei al sicuro. Siete tutti al sicuro. Ricordate che i soldi e il lavoro Perfino gli amici più cari Sono di passaggio. Ma la famiglia La famiglia dura per sempre.